Tant'è che non volevo più andarmene via dall'ospedale, proprio, cioè io stavo benissimo lì. Allora, probabilmente avevano due soluzioni, o portarmi fuori con la forza, oppure darmi uno psicologo. Mi hanno buttato in stanza uno psicologo e dire, convincere ad andare a lasciare il letto. Buongiorno a tutti e a tutte, questo è Non passa nada. Io sono Marta. Io sono Giulia. E io sono Francesca. E questo è Coming Clean, le interviste che rendono pop la salute mentale. Benvenuti e benvenute su Coming Clean, il nuovo, beh non è molto nuovo questo format, però la seconda stagione del nostro format di interviste pop sulla salute mentale, con personaggi che non sono personaggi di finzione, ma sono veri, cioè in carne e ossa. Noi in questo momento stiamo registrando con una persona, bellissimo no? È una cosa meravigliosa, non sapete quanto abbiamo aspettato. Però io ho vent'anni in questo momento. Il personaggio di oggi, la persona che è qui con noi in carne ed ossa, non la presenterò io, la presenterò Francesca. No, la faccio io, proprio perché è da vent'anni che aspetto questa occasione meravigliosa. Siamo qui con Danilo Bertazzi, attore, attrazione, conosciuto da quelli della mia generazione come Tonio Cartonio. e grazie tantissimo per essere qui. Buongiorno a tutti, grazie a voi per avermi invitato. Sono molto contento, sempre molto emozionato quando sto davanti a un microfono e quando incontro delle persone, delle ragazze così sorridenti come voi che ho qua davanti. Devo farvi però io la prima domanda, vorrei farvela io. Parlando di salute mentale, perché mi avete chiamato? Cioè, qual è il legame? Cosa è scattato? Risponde Francesca a questa domanda. La salute mentale. Beh, allora, io personalmente un po' è stato proprio per egoismo. Cioè, perché a me la melevisione e tu come personaggio pubblico mi hai aiutata molto. Anche nel mio di coming out nella vita. Quindi vedere che un mio idolo dell'infanzia ha avuto il coraggio di uscire allo scoperto è stato per me un incettivo per uscire allo scoperto anch'io. Mi fa un po' ridere che tu menzioni egoismo. Come mai Francesca? Cos'è sta novità? Perché mi dipingi come una persona pessima? Siamo sorelle dal 93, insomma. In ogni caso abbiamo pensato a te proprio perché tu sei stato una persona che ha segnato una generazione. e tante persone ancora adesso ti sono molto affezionate e quindi pensiamo che un messaggio veicolato da te possa avere un'efficacia fortissima. Naturalmente scherzavo. Sono invece davvero molto contento e molto onorato di essere qui oggi. Anche se il termine salute mentale non mi piace molto, posso essere sincero, perché salute significa che c'è una malattia, c'è qualche problema. Mi piace l'idea di igiene mentale, come c'è l'igiene dentale, che è una cosa che facciamo regolarmente per il bene dei nostri denti. Con in mani sofferenze. Esatto. Anche l'igiene mentale potrebbe essere una cosa che dovremmo fare regolarmente per pulire il cervello ogni tanto dalle troppe ansie, dai troppi problemi, per poter vivere meglio, ecco, insomma. Psicologa, cosa dici di questa definizione? Che io sono già innamorata follemente. Follemente. Ma ne approfitto appunto per agganciarmi al tuo concetto di igiene mentale e ti chiedo per te cos'è quindi l'igiene mentale che già ci hai spiegato, ma anche come tu personalmente te ne prendi cura nel tuo quotidiano. Allora, guarda, io sono stato in analisi per nove anni. Proprio l'analisi steso sul lettino, l'analista dietro mi parli della sua infanzia e ho parlato della mia infanzia per nove anni. Ho fatto anche delle grandi dormite perché capitava che alle sei del pomeriggio ero stanco, il lettino era comodo, ronfavo. E vabbè, secondo me si addormentava ogni tanto anche l'analista, tanto era dietro non lo vedivo. Sì, sì, ma in genere diciamo che... Di addormentate. Sì, ma entriamo in risonanza con il paziente. In genere questa è la scusante. Quindi, come dire, ho avuto un approccio che mi ha aiutato tantissimo a capire meglio me stesso delle problematiche. Io ad esempio ricordo che ho esordito nella prima seduta con questo mio analista dicendo c'è un episodio della mia infanzia che non racconterò mai. Ma l'analista non ha detto niente, non ha detto quale, perché niente. Dopo quattro anni, dico quattro anni, mentre ero in seduta, un pomeriggio mi è uscito fuori. Senza che io volessi dirlo, mi sono accorto in quel momento che stavo raccontando questo episodio che pensavo di non raccontarlo mai. Quindi questa è la potenza di fare un percorso per conoscere di più se stessi e per poter capire determinate cose. Magari non risolvi i problemi. Molti pensano, vado dall'analista e risolvo un problema. No, l'analista ha gli strumenti per farti capire come potresti risolvere un problema. E questo è importante, capire perché determinate situazioni le vivi sempre nello stesso modo e reiteri sempre determinati atteggiamenti, anche e soprattutto in amore. A volte succede, quante volte continuiamo ad innamorarci della stessa persona sbagliata, pur sapendo che è sbagliata. In corpi diversi. In corpi diversi, ma quello, pur essendo coscienti che anche questa sarà una persona sbagliata. Quindi io ritengo che sia fondamentale. E quando hai bisogno di un aiuto, bisogna ricorrere. Io ad esempio sono stato nel giugno, fine maggio del 2020, e eventi sono stato operato al cuore. Un intervento molto importante, tre interventi in uno, eccetera. Lì sono andato molto in crisi, tant'è che non volevo più andarmene via dall'ospedale. Io stavo benissimo lì. Allora, probabilmente avevano due soluzioni. Portarmi fuori con la forza, oppure darmi uno psicologo. Mi hanno buttato in stanza uno psicologo e direi, convincere ad andare, a lasciare il letto, che abbiamo bisogno della stanza. Che poi è giugno, si suda a spingere fuori le persone. Però, ecco, io da allora ho ripreso a fare un percorso di psicoterapia perché sentivo che da solo non ce la facevo. E sono contento. Costa, perché costa fatica, costa economicamente, perché ovviamente è un qualche cosa che non... Purtroppo in Italia, non so, correggimi tu se sbaglio, ma non so se c'è un servizio... Diciamo che in Italia esistono dei servizi del sistema sanitario e sono appunto le unità operative di psichiatria che poi si specializzano in SPDC, quindi la parte di reparto, e poi i CSM, almeno in Veneto sono CSM. Penso che in Lombardia e in altre zone siano i CIM, centri di igiene mentale, in cui appunto si possono fare dei percorsi terapeutici sia dal punto di vista psicoterapico sia dal punto di vista psichiatrico. Ecco, quindi sono... Esistono e... Sono passati dalla mutua, dal servizio... Sono passati dalla mutua, purtroppo il chiaro problema è che la quantità di professionisti, di colleghi che rientrano all'interno del sistema sanitario è esigua rispetto alle necessità. È la domanda. Ok, attualmente invece ad esempio in Campania c'è l'ipotesi... Il psicologo di base... Esatto, lo sto dichiarando adesso, in questo momento, poi vedremo come evolverà. Quindi l'idea di poter non avere solo un medico di base, ma avere anche uno psicologo che si occupi dell'utenza in senso ampio per dare questo servizio che è fondamentale. So che sto tirando acqua al mio mulino, però parlo da terapeuta, ma parlo anche da persona che ha avuto la fortuna di fare plurimeterapie, dare la possibilità di avere un servizio fondamentale, vitale a tutti. Assolutamente e penso più che mai a seguito di questa pandemia, dei lockdown, dove all'inizio tutti gridavano diventeremo più buoni, ce la faremo. Io trovo che ci sia un'aggressività veramente diffusa, maggiore, cioè proprio... Sì, sì, ha esacerbato qualsiasi tipo di... E naturalmente esclusi i presenti e le presenti. Non è ancora finito, magari cominciamo a tirarci i microfoni fra un po'. Pensi veramente che io ti abbracci? In realtà metto solo gli artigli, capisco bene dove spingere. Guarda che l'ultima volta che mi abbracciato era il 96. Voi non vedete che faccia sta facendo Giulia. Comunque, Francesca, torniamo a noi. Sì. La domanda che volevo farti adesso è invece cosa fai in questo momento appunto per superare i momenti di crisi, perché immagino anche che comunque aver avuto un intervento sia stato molto... una cosa scioccante. Quali sono le tue strategie adesso, se le vuoi condividere con noi? Ma appunto, intanto vedere regolarmente questo psicoterapeuta che... Saluto il dottore Enrico. Ciao collega. Che mi sta aiutando molto, non solo ad affrontare quello che è stato il post-intervento e quindi, come dire, togliere delle paure che si stavano radicando. Mi aiuta in questo periodo della mia vita anche ad affrontare quello che è la vecchiaia, perché è un problema, ahimè, che c'è e che sento e che sto vivendo. E non è facile da vivere, malgrado io mi vesta... Come si dice, dietro liceo davanti museo. Però, insomma, è qualcosa di difficile da affrontare. Lo sperimenterete anche voi, arrivati alla soglia dei 60 anni, anzi, dopo averli superati, quindi diventa molto difficile, comincia a fare dei conti alla rovescia. Cioè, hai dei pensieri bruttissimi che ti fanno fatica, insomma, ti affaticano molto. Però, ecco, è prezioso in questo caso l'aiuto che mi sta dando il mio psicoterapeuta proprio per affrontare questo. E una cosa che lui mi sta dicendo da parecchio è quello di non proiettarmi troppo verso il futuro. Ma stare nel presente. Perché se no mi perderei tutto quello che di bello mi può dare il presente adesso. E quindi sto facendo... Anche la mia terapauta dice lo stesso. Quindi sto facendo... Ma allora sono fatti tutti con lo stampino perché dicono tutti le stesse cose. Ma allora se dicono tutte le stesse cose, scusa, dividiamocelo. Eh, infatti, ne basterebbe uno che dice a tutti... Uno, questa cosa, ce lo dividiamo. Però no, l'importanza dell'essare nel qui ed ora è un concetto che io ho fatto molta... E tuttora faccio molta fatica a rendere mio. Ma devo dire che pian pianino si sta insidiando nella mia testa. Salva vita. Ogni tanto mi ritrovo a essere grata per il momento che sto vivendo e a stare lì. E non andare né troppo avanti né rimuginare nel passato. Dimmi. Tipo adesso? Tipo adesso. Ci vuole... Ci vuole dell'allenamento sicuramente però aiuta tantissimo. Io ho una domanda che, come dire, esula un po' dalla tematica esclusiva della salute mentale, però che va a toccare anche quello che è stato il tuo lavoro in questi anni e continua ad essere il tuo lavoro. Tu sei sicuramente un esperto, anche se tu poi cercherai sicuramente di sminuire questa cosa, ma è vero, di come si comunicano soprattutto certe cose ai bambini. Noi non parliamo, non abbiamo parlato tanto di infanzia e di bambini in generale, però mi rendo conto che questo tema, pensando alla mia storia e probabilmente anche alla storia di Giulia e Francesca, non è sicuramente tra i primi temi di cui si parla ai bambini, ai giovani adulti, diciamo così, che ci porta poi a doverlo affrontare tutto di un colpo quando stiamo diventando grandi o addirittura qualcuno anche appunto in età adulta direttamente. Secondo te ci sono delle, non voglio dire dei consigli, ma che cosa ti sentiresti di dire che potrebbe essere qualcosa di utile da un punto di vista comunicativo, non necessariamente in televisione, ma anche nell'approccio con la mente di un bambino per spiegare l'importanza della salute mentale e di che cos'è la salute mentale, perché tante volte abbiamo delle ansie, delle preoccupazioni, dei problemi che ci sembrano insormontabili, anche quando siamo piccoli. Dottoressa, possiamo chiudere quest'idea che i bambini non sentono problemi e quant'altro, giusto? Che l'infanzia non è un momento sempre felicissimo per tutti. Ma vi dico solamente, pensate alla vostra infanzia, poi magari iniziamo a parlare del concetto di felicità, perché secondo me è un po' distante, così, la butto lì. Oddio, non c'è adesso un intermezzo musicale? Possiamo mettercelo tranquillo. No, scherzo. No, è difficile, cioè temi così grandi sono impossibili da trattare con i bambini piccoli. Si può, di volta in volta che appaiono dei problemi, si può cercare di spiegare. Ad esempio, io quest'estate ho accompagnato il mio nipotino alle lezioni di nuoto e la prima lezione di nuoto lui era agitatissimo perché pensava di dover sostenere un esame ed era in ansia di competizione, per cui lo vedevo proprio agitato, cioè per cui era uno stato emotivo il suo, molto simile a quello che possiamo avere noi adulti, capito? Cioè proprio l'ansia di prestazione e quindi l'unica cosa, ovviamente non potevo spiegargli l'ansia di prestazione, però cercare di rassicurarlo che non c'era nulla di cui spaventarsi, non doveva fare nessuna gara, avrebbe iniziato a fare una serie di esercizi prima con l'istruttore, con gli altri bambini e quindi si è un po' calmato e la lezione successiva è andato più tranquillo. Ma lui proprio come si è alzato al mattino sapendo di dover fare questa prima lezione di nuoto era agitatissimo. La stessa cosa è successa qualche giorno fa che hanno iscritto i genitori ad una scuola di calcio, per cui lui è entrato, ha visto che c'era nel campo degli altri ragazzini, ha cominciato a correre per cercare di prendere la palla a tutti, anche a questi più grandi, sempre per quest'ansia di dover dimostrare qualche cosa, l'hanno dovuto richiamare, dire no Giacomino vieni qua, adesso devi cominciare con i palleggi, non devi fare niente. Ma lui entra, quindi anche i bambini hanno sicuramente delle ansie, questo sì, sta a noi ovviamente, siccome non sono lasciati da soli i bambini, sta a noi comprendere queste ansie e rassicurarli. E soprattutto non sottovalutarle. E non sottovalutarle, certo. Giusto, corretto. Posso fare un'altra domanda rispetto alla salute mentale o igiene mentale? Una cosa che in questo podcast stiamo cercando di fare è quello di combattere lo stigma. Lo stigma che in parte è inconsapevole, in parte invece almeno qui in Italia viene portato a grande forza. Il punto è se tu, nel tuo vissuto personale, senti di mai essere stato colpito in qualche modo da uno stigma e se per te è stato possibile riconoscerlo come tale e viceversa anche se è stato possibile gestirlo. Ma allora, dunque io, quando facevo le medie, no, perdono, chiedo scusa, no, il liceo, dunque avevo 16 anni, ho avuto il primo episodio di attacchi di panico, ansie e di problemi che all'epoca poi, insomma, in un paese piccolo come Chivasso, ti ricoveravano in ospedale per tenerti sotto controllo, per farti gli esami, per vedere se stavi bene. Tornato a scuola sicuramente c'è stato, come dire, un atteggiamento da parte dei compagni, come dire, ah, questo è matto, pure, ah, c'è battute, queste cose qua, questo è stato inevitabile. Non so se succede ancora adesso tra i ragazzi, però sì, forse, ma questo credo che sia una cultura molto italiana dove, appunto, quando si dice salute mentale sembra che sia qualche cosa da nascondere, di cui vergognarsi, non bisogna parlarne, così come si continua a non usare la parola cancro, si continua a dire male incurabile, diamo il nome della malattia così com'è, no, però c'è una sorta di pudore e di vergogna, come se uno si dovesse vergognare, ahimè, di essere purtroppo ammalato di cancro, oppure di aver bisogno, appunto, di essere di un supporto per superare dei momenti difficili e tutti noi abbiamo momenti difficili, una separazione, un lutto, cioè spesso diciamo, ah, c'ho un amico, un'amica, non è la stessa cosa, perché l'amica è una spalla, è un abbraccio, ma non ha gli strumenti che può avere, invece, chi fa questo di mestiere e che anche se non ti abbraccia, perché non ti abbraccia uno psicologo, non ti abbraccia, spesso non ti dice, non ti dà neanche dei consigli, lui non ti dà dei consigli, non ti dice, deve fare questo, dovrebbe fare quell'altro, no, non te li dà, non fa parte del suo lavoro, anche proprio per una questione etica, credo, proprio, però ti aiuta molto di più dell'abbraccio di un'amica o di un amico, quindi questo è, non bisogna assolutamente vergognarsene, cioè se una mal di dente appunto va dal dentista, se uno si è fatto male ad un ginocchio va dall'ortopedico, se uno fa fatica agli attacchi di panico, va a chiedere consiglio e non c'è neanche da vergognarsi se una terapia farmacologica può aiutare in questi casi, questo sì. Beh, io ti ringrazio perché è un'intervista meravigliosa. Abbiamo finito? Ha settato la barra molto alta per le prossime. Mamma mia, mamma mia. No ragazzi, grandissimi livelli, veramente. Sì, ce lo diciamo da sole, ok? Grazie. Vabbè, ma è giusto anche volersi bene, no? Un po' di autostima, rafforzamento positivo. Comunque io ti ringrazio perché sei stato un idolo della mia infanzia, pensavo fossi una persona meravigliosa, ti sei rivelato tale, quindi per me io posso andare in pace. L'abbiamo fatto scoprire anche tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Eh sì. Noi vi ringraziamo, ringraziamo Danilo. Grazie a voi. È stato splendido, grazie. Ci sentiamo alla prossima puntata di... No Passa Nada, coming clean. Coming Clean è un format No Passa Nada, prodotto da No Passa Nada, realizzato con il supporto non condizionato di Lundbeck e grazie all'editor Sandro Ghini. Ascoltaci sulla tua piattaforma preferita e seguici su Facebook, LinkedIn e Instagram, annopassanada underscore podcast. Ti aspettiamo. No Passa Nada, come clean. 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 Grazie a tutti.